Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Atlas Helium Trail, una ciaspola super leggera, forse la più leggera che io abbia mai provato e anche dal prezzo non eccessivo, anzi direi abbastanza economico. Vediamone adesso pregi e difetti all'interno della recensione completa. Visto che ve lo anticipavo, iniziamo parlando del suo peso. Queste ciaspole pesano 700 grammi l'una nella taglia 23 pollici, esistono le taglie 20, 23 e 26 pollici, poi naturalmente in base alla taglia andrà a cambiare il peso e vi assicuro che 700 grammi è davvero un ottimo peso per un paio di ciaspole, poi ne vedremo che magari peccano su altro, però quando camminiamo davvero ai piedi non le sentiamo. Iniziamo parlando dei materiali, è una ciaspola composta praticamente quasi tutta in plastica, al di là di tutta la parte di ramponatura per il resto è tutta plastica. Questo però può essere anche un pregio perché a livello di materiali si è rovinata davvero pochissimo, cioè sembrano quasi nuove queste ciaspole, nonostante le abbia utilizzate per tante 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 escursioni e davvero a livello dei materiali è una ciaspola duratura, è una ciaspola che non si è rovinata, quindi materiali promossi. A livello di forma invece queste ciaspole non sono tanto schiacciate, però essendo strette già di loro come forma della ciaspola, vi assicuro che non danno fastidio quando camminiamo, non dobbiamo tenere le gambe particolarmente aperte, soprattutto poi hanno una forma che si rastreva nella parte posteriore e questo davvero ci aiuta tanto anche quando dobbiamo fare dei passaggi un pochino stretti. A livello di camminabilità, visto che mi accennavo, come dicevo, sono abbastanza semplici da usare e soprattutto essendo in plastica sono veramente molto flessibili, soprattutto nella parte posteriore e questo ci aiuta tanto nel momento in cui andiamo in discesa, ci aiuta soprattutto nel fare il movimento tacco punta, quindi davvero studiate molto bene queste atlas. Poi sempre per quanto riguarda la camminabilità, parte anteriore che ha un angolo bello pronunciato e vi assicuro che si sente che lavora molto bene, soprattutto quando andiamo su pendì particolarmente ripidi o su neve particolarmente alta. A livello di galleggiabilità, diciamo che ci siamo, siamo nella norma con tante altre ciaspole, nulla di eccezionale, lavorano bene, poi naturalmente qua sta a voi prendere la taglia giusta in base al vostro peso, però a livello di galleggiabilità, normali. Giriamo la ciaspola e inizio a far vedere la parte inferiore tutta la ramponatura, una ramponatura che corre, diciamo, dalla punta della ciaspola fino ai tre quarti, un'arriva proprio fino in fondo, però è una ramponatura fatta bene, lavora bene, soprattutto anche qua per i materiali la ramponatura non si è minimamente usurata, quindi davvero fatta molto molto bene. Qua nella parte centrale troviamo tutta una parte in plastica che evita che vada a formarsi lo zoccolo sotto questa ciaspola, infatti lo zoccolo non lo avremo praticamente mai. E anche per quanto riguarda la ramponatura sotto la punta del nostro piede, questa ha tre punzoni doppi, quindi anche lei lavora molto molto bene, quando andiamo a spingere di punta sentiamo che dà un ottimo feedback e un ottimo grip. Continuo girandovi la ciaspola e vi parlo dell'allacciatura. Questa allacciatura è veramente molto semplice, praticamente composta da tre fibie da andare a tirare e richiudere. Mi è piaciuta perché comunque la ciaspola si può andare a mettere e togliere veramente molto velocemente. Questa resta chiusa anche nei passaggi più complicati, non si è mai aperta, in tante escursioni non si è mai aperta. L'unica cosa, fate attenzione se avete il piede particolarmente grosso. Io con il mio 47 mi capita spesso che la parte esterna della ciaspola vada a infilarsi sotto, come dire, lo scheletro della ciaspola e vada a creare un grosso fastidio, tanto a dover fermarsi ogni volta e riportare su il pezzettino esterno. Secondo me il numero massimo per queste ciaspole sono un 44-45 se abbastanza stretto in punta. Altrimenti sopra davvero lasciate perdere perché rischiate di comprare una ciaspola che andrete a rovinare. Sempre per quanto riguarda poi i materiali anche della chiusura, è fatta bene, davvero non ho avuto nessun problema. Io poi sono uno che stende a stringere davvero tanto le chiusure e questa non ha avuto punti di cedimento, quindi tranquillissima. L'unica cosa naturalmente è per quanto riguarda i traversi. Non avendo una struttura rigida, quando andiamo a fare i traversi, queste ciaspole non ci aiutano tanto, però non lo considererei neanche tanto un contro, perché poi vedendo perché sono pensate questo tipo di ciaspole, diciamo che l'utente per cui sono pensate non dovrebbe andare a farli. Sempre nella parte dell'allacciatura, sotto dove andiamo ad appoggiare il piede, c'è tutta una parte in gomma con degli spuntoni che vanno a garantirci un ottimo grip tra la sua, il nostro scarpone e la ciaspola. Quindi anche questa è una piccola feature che però ci dà modo di capire quanto sono fatte bene queste Atlas. Per quanto riguarda invece l'alzatacco, troviamo un alzatacco singolo, facilissimo, non riusciamo ad azionarlo col bastoncino perché è abbastanza duro, però come solito questi tipi di alzatacco a me convincono ma non convincono, nel senso che lavorano bene, si sente che lo utilizziamo quando andiamo in salita, però se abbiamo delle scarpe particolarmente flessibili alla lunga ci darà un fastidio questo tipo di alzatacco. Per questo alzatacco io consiglio sempre gli scarponi almeno semirigidi. Cosa che manca su questa ciaspola è la possibilità di fermare la basculazione, non abbiamo un fermo, nulla, quindi per il trasporto potrebbe essere un problema o in caso di disceso dove magari vogliamo fermare la basculazione, quello potrebbe rappresentare un po' un problema. Arriviamo alle conclusioni per queste Atlas Helium Trail. Ve le consiglio, sì, io mi ci sono trovato veramente bene, al di là del mio numero che è un po' troppo grande per questo tipo di ciaspole, vengono vendute sul sito ufficiale di Atlas a 170€, online si trova tranquillamente a 100-120€, secondo me è un'ottima ciaspola per chi inizia, per i principianti che magari non vogliono andare a fare traversi, roba topo tecnica, diciamo una ciaspolata proprio tranquilla, vendute a prezzo di 100-120€ vanno in concorrenza diretta con altre ciaspole di questo tipo, quindi io sinceramente ve le consiglio e poi il grande pro è la leggerezza, davvero prese in considerazione anche delle ciaspole di brand concorrenti non ce ne sono così leggere, di solito i brand concorrenti tendono ad essere almeno 900-1000g a ciaspola. Vi assicuro che con queste, soprattutto se non avete così tanto allenamento, non sentirete la zavorra sui piedi. Dato ciao ragazzi, io nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima, ciao!